Si è colorata di rosso la città di Salerno dove dalla serata di ieri ha preso ufficialmente il via la sperimentazione Tarip con i volontari che hanno aderito all'iniziativa che hanno dovuto conferire rifiuti nei mastelli e nelle buste rosse. Subito dopo i facilitatori muniti di beige, pettorina, bilancino e tablet hanno cominciato a pesare il vetro e l'organico conferiti attribuendo nei relativi quantitativi alla singola utenza grazie al codice di cui è dotato ogni singolo mastello. Le operazioni sono proseguite ben oltre la mezzanotte e sono continuate nella giornata di oggi nei rioni collinari. In mattinata dopo lo svuotamento gli utenti che hanno aderito alla sperimentazione hanno potuto ritirare il proprio mastello per poterlo riutilizzare per i prossimi conferimenti. Salerno Pulita ricorda che è anche possibile ancora iscriversi alla sperimentazione. Lo si può fare sia presso i centri di raccolta comunale a Fratti e Rechi che presso il centro di raccolta mobile che sabato 23 marzo si terrà dalle 9 alle 12.30 nel quartiere Italia in via Medaglie d'Oro all'angolo con via Lecennidi. L'iscrizione può essere fatta anche sul sito internet di Salerno Pulita. Successivamente si riceverà a casa il mastello con le buste. Si ricorda che il passaggio dall'Atari alla Tarip è prevista da una legge nazionale del 2013. Salerno Pulita e Comune di Salerno in questo progetto sono supportati dal Conai e da Legambiente che ha fornito i facilitatori che nelle scorse settimane sono stati opportunamente formati.